Vittoria fa colazione e butta per terra un po' di briciole, ma c'è Mati pronta a fare d'aspirapolvere. Lone, lì a prendere tutto quello che lanci, guarda, Mati, Mati. Dopo aver fatto colazione, tutti a fare le foto per la nuova serie dei Ferragnez, che tra un po' la vedremo in onda. Grazie. Grazie.